Lettura degli ultimi giorni, incredibile, è l'arte di conoscere se stessi di Marco Aurelio, imperatore romano di migliaia di anni fa, che ha scritto una specie di diario a se stesso in cui mette giù dei pensieri. E da questo libro possiamo imparare delle regole universali importantissime, che sono ancora valide adesso, migliaia e migliaia di anni dopo. Volevo ringraziare Rick, che è un youtuber che parla di filosofia, e penso sia una cosa bellissima trovare un youtuber che non fa cazzate, non fa solo prank, nulla contro chi fa prank e tutte quelle cose lì, ovviamente ognuno ha il suo stile, però trovare una persona che è unica nel suo genere e parla di filosofia su youtube penso sia stupendo, quindi andate a seguire Rick su youtube, se non lo seguite andate a seguirlo perché è una figata. Appunto lui ha consigliato questo libro qua di Marco Aurelio, lo sto leggendo, è stupendo, 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 vi leggo qualche quote adesso, vi leggo qualche quote. Questo libro è un insieme di pensieri, quindi è un insieme di libricini che aveva scritto lui, quindi il libro ottavo, la parte 16 dice, ricordati che se cambi parere e dai ragione a chi ti corregge, anche questo è segno di libertà, perché sei sempre tu che agisci in base ad un impulso e ad un giudizio tuoi, e quindi con la tua testa. È un esempio, ci sono miliardi di quote che potrei leggervi, questo libro è pazzesco, e per chi dice che ci ha bisogno dei soldi per essere felici, vi rispondo, andate in un canile e prendete un cane che ha bisogno di amore, di affetto e di una casa, comprate un libro, costa 10 euro, mettetevi al sole, potete anche andare in un parco, io spesso vado al parco e godetevi la vita. Grazie a tutti, grazie a tutti.